Torna per il quinto anno consecutivo il contest fotografico legato al ricordo della giovane artista di Policastro Bussentino, Maria Dorotea Di Sia, morta tragicamente a soli 25 anni il 13 maggio del 2014 in un incidente stradale. Il tema di quest'anno del concorso indetto dallo staff del Dorothy Dream Day è la vita che vorrei tra sogno e realtà. I partecipanti dovranno quindi raccontare attraverso la fotografia ciò che questo tema ispira, un luogo, un oggetto, un desiderio, un panorama, un'azione. La partecipazione al contest è gratuita, aperta a tutti gli amanti della fotografia, non professionisti e senza limiti di età. C'è tempo fino alle ore 12 del prossimo 8 luglio per partecipare al concorso inviando una sola foto corredata da nome, cognome e contatto telefonico dell'autore e autrice sia tramite mail all'indirizzo doroti-dream-hotmail.com che imposta privata nella pagina Facebook del Dorothy Dream Day. La premiazione dei vincitori del contest si terrà mercoledì 10 luglio a Casa Stella a San Giovanni Appiro nel corso del Dorothy Dream Day 2019. Quest'anno la manifestazione alla sua quinta edizione organizzata dai familiari e dagli amici di Dorotea come negli anni passati sarà l'occasione per ricordare la giovane artista e per visitare Casa Stella, la casa dei ricordi di Dorotea diventata la casa degli artisti del Golfo di Policastro. Tra sogno e realtà sarà anche il tema della ricca giornata organizzata per mercoledì 10 luglio a partire dalle 10 a Casa Stella in località Onofrio. Un appuntamento ma anche un luogo dell'anima e dell'arte a tutto tondo.